molto bene allora prima di tutto perché questo webinar questo webinar che in realtà avevamo l'idea di fare da parecchio tempo perché sempre più spesso ci capita di sentire nostri clienti che in qualche modo si trovano a doversi rapportare con questo mondo il mondo del BIM e non nascondo che a volte questo dialogo è difficile perché spesso non si capisce neanche dove stia la questione perché sentono magari parlare di BIM ma non capiscono come questa cosa possa integrare loro possa riguardare loro si capisce che è una tecnologia piuttosto interessante però non si capisce cosa c'è di diverso rispetto a quello che già stanno facendo quindi questo è un webinar dedicato agli impiantisti industriali che però vogliono capire questo mondo è stata anche un'occasione per andare a recuperare un po' di informazioni raccogliere informazioni e organizzarle in modo ordinato diciamo che abbiamo cercato di organizzare questo webinar mettendo insieme le cose come sarebbe piaciuto che qualcuno le avesse organizzate per noi quando ci siamo andati a informare su questa materia quindi adesso andiamo a vedere l'agenda allora ci sarà una prima sessione che prenderà circa la metà del tempo piuttosto interessante vedrete che è l'introduzione al mondo BIM e qui faremo anche una breve storia del BIM perché per capire una cosa bisogna anche un po' sapere da dove viene quindi vedremo da dove nasce questa questa tecnologia qual è diciamo la finalità del BIM e soprattutto daremo un piccolo vocabolario del mondo BIM per cui quando si parlerà di LOD livello di integrazione IFC 2x3 ecco vi darò qualche informazione su questo magari alcuni di voi già conosceranno queste cose per altri sarà un'esperienza completamente nuova ma credo che comunque ognuno si porterà a casa qualcosa e vedremo soprattutto come noi ci raccordiamo al mondo BIM quindi una volta capito come funziona il BIM vedremo come ci entriamo noi dentro poi c'è una seconda parte del webinar che in realtà è suddivisa in micro argomenti e sono le funzionalità di BricsCAD BIM quindi vedremo come BricsCAD BIM può essere una soluzione pratica per coniugare l'impiantistica al BIM ovviamente siamo qui perché usiamo tutti EsaPro quindi vedremo le funzionalità BIM di EsaPro quindi ci sono delle funzionalità esclusive di EsaPro su BricsCAD per integrare l'impiantistica con il mondo BIM più o meno queste sono le tempistiche diciamo quindi saranno cose abbastanza veloci e poi soprattutto una cosa di grandissimo valore secondo noi è un esempio pratico perché una cosa che normalmente colpisce nei seminari BIM è che ci sono cose molto interessanti dal punto di vista concettuale però poi si rischia un po' di perdere l'aspetto pratico di questa cosa invece andremo proprio nel merito e vedremo un impianto BIM che si sta proprio progettando in questo momento l'impianto di cenerimento di REN è un progetto fatto da un'associazione temporale di imprese che prevede la partecipazione di RUTS e FISIA entrambi i nostri clienti che dovrebbero anche essere collegati e loro ci hanno fornito questi dati e sono molto molto interessanti perché vi assicuro che è un progetto di assoluto rilievo uno dei più grandi che in questo momento si stanno facendo in Europa dove siamo riusciti a coniugare questi due modi in pratica in pratica quindi una cosa che si sta verificando proprio adesso allora e poi domande risposte ok quindi terminata la parte puramente espositiva ci sarà spazio poi per eventuali domande risposte quindi se doveste avere qualche domanda da fare potete segnare poi ci sarà una parte libera quindi chi vuole può restare collegato e interagiamo allora prima parte introduzione al mondo BIM allora si parte proprio dall'inizio che cosa si intende per BIM allora l'acronimo ormai è noto sta per Building Information Modeling ma il fatto che la B sia in rosso non è non è un caso questo vuol dire tanto Building mi dà già un imprinting molto forte cioè tutto quello che ruota attorno al BIM è pensato in funzione delle progettazioni edile e l'ottica con cui viene visto tutto il mondo BIM è fortemente influenzata da questo approccio ed è una delle difficoltà forse che per noi progettisti impiantistici presenta l'approccio a questo mondo qui perché è un mondo diverso è un mondo diverso progettano certamente anche loro ma hanno un modo differente di vedere le cose quindi capirli aiuta a parlarci e quando ci si parla ci si capisce e si riesce a interagire quindi questo sarà un piccolo sforzo che noi facciamo per avvicinarci a questo mondo e poter capire cosa ci stanno chiedendo i nostri clienti e come come ragionano soprattutto quindi Building Information Modeling e qui diciamo abbiamo fatto un po' di ricerche filologiche no siamo andati a cercare l'origine di tutto questo comunque il BIM nasce nel settore edile quindi architettura ingegneria come soluzione ottimale alle problematiche relative al facility management cioè il BIM nasce con questo scopo qua dice ok abbiamo progettato quello che dovevamo progettare creiamo diciamo una metodologia di lavoro che faciliti quello che verrà dopo quindi la gestione quella che noi chiamiamo della manutenzione io dico sempre teniamo d'occhio la palla teniamo d'occhio l'obiettivo di questo discorso che è questo è qui che punta tutto tutto quello che noi facciamo in termini di progettazione è finalizzato a questo più in generale diciamo se vogliamo dare una definizione da manuale è un insieme di processi e strumenti quindi metodologie e strumenti software interconnessi e interdipendenti cioè si lavora diciamo in team ognuno con le sue competenze che si fonda sulla disponibilità di uno o più modelli digitali del prodotto edilizio però quindi uno o più modelli digitali quindi vorrebbe dire un modello per la parte civile muri una parte impiantistica una parte magari anche meccanica integrabili e in grado di dialogare tra di loro quindi è un concetto multidisciplinare ma visto sempre con gli occhi dell'edilizia quindi questa cosa qua del B ricordatevi è una costante la troveremo sempre indica quindi un approccio per l'ottimizzazione della pianificazione e realizzazione e gestione di opere edili tramite aiuto di uno o più software di progettazione 3d quindi multidisciplinarità vuol dire che ognuno ha il suo mestiere ognuno ha un suo software di riferimento noi abbiamo esapro chi fa progettazione magari civile a revit chi fa progettazione meccanica invento il risultato finale cioè cos'è un BIM poi nella pratica fisicamente cos'è è un asieme 3d quindi un modello con tutti i dati però quindi è un modello ricco non è semplicemente un file grafico è un modello che contiene dei dati che si ottiene sommando i modelli delle singole discipline la definizione corretta è modello federato la federazione dei modelli quindi fare BIM vuol dire creare un modellone che la somma del modello ha modello B modello C ognuno contiene la la sua parte questo è il BIM quindi quando si chiede dobbiamo lavorare in BIM e vuol dire che noi dobbiamo fornire un pezzettino di questo modello federato uno o più pezzettini a seconda dell'attività che facciamo la storia le tappe importanti per il percorso verso il BIM qui ripercorre un po' la storia del BIM ma in realtà si vedrà una cosa molto molto curiosa alcuni versi persino buffa e la vedremo comunque il primo teorico per dire da quanto se ne parla addirittura nel 75 un certo Eastman pubblica sulla classica rivista americana un articolo che dice l'uso del computer invece che dei disegni cartacei per il building design negli anni 80 quindi quando ho iniziato a fare anch'io questo questo lavoro mi ricordo benissimo che ne sono nati i primi CAD 3D però questa è la cosa curiosa cosa vuoi che sono nati principalmente in campo aerospaziale meccanico nel mondo delle costruzioni un po' dopo si è iniziato a lavorare a CAD ma prevalentemente in 2D quindi diciamo i meccanici chi più chi meno sono partiti in 2D ma sono andati abbastanza spediti verso il 3D anche gli impiantisti diciamo un pelino dopo forse gli edili diciamo gli architetti sempre a tecnigrafo sono passati a CAD 2D nei primi anni 90 quindi dieci anni dopo nascono i primi modellatori architettonici arc plan al plan arc plan fosse un prodotto israeliano vorrei dire in esattezza comunque di quegli anni lì ma diciamo erano cose abbastanza pionieristiche il mercato della progettazione civile ha continuato per lo più a lavorare in 2D mentre il resto del mondo ci andava sempre più convinto nel 94 nasce l'international alliance for interoperability IAC che cosa aveva come 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 scopo questa questo IAC lo scopo di stendere delle specifiche di interoperabilità tra i diversi software utilizzati a progettazione civile perché l'idea del BIM come abbiamo detto prima è quella dell'interoperabilità e il primo problema con cui va a scontrarti quando fai interoperabilità è che c'è il prodotto che fa i dvg c'è il prodotto che fa gli rvt c'è il prodotto che fa i dgn c'è il prodotto che fa xxx come fai a mettere insieme questa roba a parte il discorso dei dati ma proprio anche fisicamente no ogni prodotto ha il suo formato quindi l'IAC nasce nel 94 quindi tanti tanti anni fa per stendere delle specifiche di interoperabilità vuol dire un linguaggio comune l'inglese diciamo che che i software che opera in ambito BIM dovrebbero leggere o scrivere quindi ognuno ha la sua lingua nativa come noi parliamo in italiano i tedeschi parla tedesco però bene o male ci capiamo perché c'è l'inglese 94 nel 2000 quindi sei anni dopo nasce questa questa chimera diciamo che è l'IFC in realtà non è una chimera ormai è una cosa molto molto consolidata l'IFC è un formato file è l'inglese diciamo del mondo BIM l'IFC sta per Industry Foundation Classes ed è il formato di interscambio del mondo BIM quindi quando si fa un modello federato si fa in IFC non importa diciamo quale software tu adoperi per farlo potrebbe essere Revital, Plan, ESA Pro, Tecla ma sempre IFC e lo mettiamo insieme quindi l'IFC è la piattaforma software diciamo formato file che prevede questo nel 2008 c'è un rebranding diciamo IAC cambia nome e diventa prende il nome che ha ancora attualmente si chiama BildiSmart diventa un'organizzazione internazionale che si occupa della classificazione e certificazione di tutti i software operati in ambito BIM, progetto OpenBIM cioè diventa oltre a l'organizzazione no profit che si occupa del formato IFC che è un formato open quindi è un formato file di pubblico dominio diventa anche l'ente certificatore che attesta diciamo se un software è o meno compatibile con il BIM quanto sei BIM quindi non sei un BIM ufficiale certificato se è BildiSmart non ti dà l'ok quindi vedremo che questo ha un'importanza molto grande soprattutto dal punto di vista legislativo in caso di appalti pubblici. BildiSmart tornerà questo nome tornerà come l'IFC e qui c'è l'aspetto legislativo. Finora abbiamo parlato di una tecnologia promettente però come è successo in tanti altri casi molte altre tecnologie promettenti e idee molto buone sono rimaste sulla carta. Qui c'è stato l'impulso che è stato un aspetto legislativo di una direttiva europea del 2014 sugli appalti pubblici che così d'amblè ha introdotto l'obbligo di utilizzare il BIM per gli appalti pubblici come dire vabbè finora avete lavorato con Autocad RT e fatto le distinte in Excel perché quello si faceva e si fa ancora adesso. Adesso passiamo tutti al BIM ovviamente a livello europeo c'erano paesi un pochettino più avanti e paesi un pochettino più indietro l'Inghilterra era il paese un pochettino più avanti immaginate quali sono i paesi che stavano un pochettino più indietro noi e altri che diciamo all'epoca forse non sapevamo neanche cosa fosse il BIM però è diventato un obbligo di legge per appalti superiori a una certa cifra e poi a scendere sempre. Però nella direttiva ci sono delle raccomandazioni specifiche, esplicite che il BIM in quanto tale è open o è open o non è. Quindi ok i vari stati sono obbligati a usare il BIM ma non devono imporre vincoli all'utilizzo di software prodotti da diversi fornitori perché l'abbiamo spiegato prima no? Modello federato IFC quindi non esiste che tu imponi il prodotto di A piuttosto che di B piuttosto che di C. Quindi tu imponi diciamo il BIM ai tuoi fornitori ma loro devono essere liberi di scegliersi il software BIM diciamo che ritengono più opportuno tra quelli certificati da Building Smart, tra quelli certificati da Building Smart e quindi Building Smart come dicevo è molto importante. L'elenco è dentro a buildingsmart.org quindi quelli che sono certificati BIM e possono essere utilizzati per gli appalti pubblici sono lì. Se un software non è lì magari legge e scrive l'EFC in modo eccellente ma non ha questo imprimatur ufficiale. All'epoca, vabbè, da sorridere no? È stato fissato un termine di 30 mesi per il scipimento della direttiva da parte dei stati membri. Adesso sapete benissimo qual è la situazione reale. Quindi diciamo che la nostra amministrazione pubblica adesso ci si sta attrezzando però come vedremo il BIM non è questione tanto di formato file, è proprio questione di organizzazione del lavoro e lì diciamo magari è fatto un po' più di fatica. Allora, informazioni sul BIM. Allora, piccolo glossario. Livello di maturità e le dimensioni del BIM. Qui fa vedere praticamente che cos'è BIM e che cosa non lo è. Sono stati definiti praticamente tre gradi di maturità, diciamo, del progetto. Il livello zero è quello che viene chiamato normalmente bassa collaborazione e sono, si lavora in 2D e ognuno si fa i fatti suoi fondamentalmente, i fatti diversi separatamente. Quindi livello integrazione bassissimo, non è BIM, non siamo nel caso di BIM. Diciamo il modo che spessissimo viene usato anche adesso. Un po' meglio, sei un po' più BIM, ma non sei ancora BIM, se hai un livello parziale di collaborazione. Livello 1, quindi livello di maturità del BIM 1, non sei ancora in BIM, ma ci stai avvicinando. Lo sviluppo del progetto e la produzione di informazioni è un mix, può essere un mix tra disegni 2D e modelli 3D, ma comunque almeno il team di progettisti utilizza un common data environment per condividere informazioni. Banalmente salviamo tutti il suo stesso server, almeno quello, invece che passarci i file brevi in mano e qual è la versione aggiornata. è quello che quasi tutti fanno. Livello 0, non ci lavora nessuno, almeno a livello 1 siamo tutti. E poi passiamo il confine, entriamo nel mondo BIM. Il BIM livello 2 è il primo livello BIM, allora vuol dire che si lavora solo in 3D, cioè lo sviluppo del progetto interamente in 3D, quindi tutto il modello è 3D. I modelli 3D, completo di dati, vengono condivisi nel CDM, ovviamente su server, ma in un formato file comune, quindi non è un file formato rvt o iam o che o è, è un modello IFC. I modelli vengono sommati per ottenere un modello federato, quindi in realtà quello che apre una somma di IFC. è prevista le dimensioni, no? Quando si sente parlare di BIM, qualche volta sentirete parlare di 2D, 3D, e vabbè, quello sappiamo cos'è, poi 4D, 5D, 6D addirittura, c'è anche un 7D, eh? Cosa sono? Un BIM già è complicato di suo, già 7 dimensioni, no? In realtà la quarta dimensione è la gestione delle tempistiche, quindi nel modello BIM è possibile, non è obbligatorio, ma è prevista la possibilità di aggiungere informazioni relative alle tempistiche, di costruzione, e una quantificazione dei costi, quindi sono le dimensioni addizionali, oltre al 3D del BIM, no? 4D e 5D. E poi c'è il livello 3, questi sono i due BIM. Il livello 3 è il livello di integrazione massima attualmente previsto per i BIM, qui vuol dire che siamo proprio al massimo, e lo chiamano iBIM, ricalcando un po' la Apple, cioè il modello non solo è federato in tutto quanto, ma è addirittura gestito in ambiente cloud, quindi su un ambiente che non è neanche su un server locale, ma è disponibile worldwide. Tutti i progettisti coinvolti hanno accesso al modello, e in base ai ruoli sono in grado di aggiungere informazioni. Oltre al 4 e 5D non ci facciamo mancare niente, facciamo anche il 6D, che contiene le informazioni sulla manutenzione e il ciclo di vita del BIM, cioè le informazioni per la manutenzione. In realtà ci sarebbe anche un 7D, che è il dismantling, cioè quindi come informazioni relative allo smantellamento dell'impianto. L'esempio che vedremo di REN, in realtà è una via di mezzo tra il 2 e il 3. Devo dire che guardando poi nel dettaglio, siamo più vicini al 3 che non al 2, quindi veramente stiamo parlando di un esempio di grandissimo valore. L'aspetto tecnico delle specifiche è formato IFC. Adesso, come è fatto un file IFC? Perché è quello che dovete fare, che dobbiamo fare, è quello che ci viene chiesto dal cliente. Cioè, dammi il BIM? Vuol dire, vuole un file IFC. Allora, è formato aperto, consente l'interscambio dei dati tra i vari software, e tutti i software certificati di BiliSmart non è già scriverlo correttamente. Quindi non sei un software BIM, se non superi gli stress test, perché sono proprio stress test di BiliSmart, che vuole una copia del tuo software e a questo punto prova a darti degli IFC e vede quanto riesce a leggere e quanto a scrivere. Il grado, diciamo, di comprensione degli IFC definisce quanto punteggio hai. E se hai un punteggio che arriva a un X, sei certificato, altrimenti no. IFC in realtà è un file di testo molto grosso, sono file piuttosto pesantucci dal punto di vista delle dimensioni, ma questo non deve spaventare semplicemente perché è un formato file che è fatto per essere facilmente leggibile dai software, non tanto per essere compresso, è un formato di interscambio. Comunque, è diviso in due blocchi, si può aprire anche con blocco note, è un file di testo. In una c'è tutta la parte della grafica, così, come informazione, diciamo, per darvi un'idea, la parte grafica è stata basata su delle specifiche che sembriamo al momento ai file step, per chi lavora con i modellatori meccanici ha già un'idea di che cosa intendo. Quindi la parte grafica, diciamo, grosso modo è un derivato dello step e poi c'è un'altra parte sotto che contiene i dati, che è la parte importante, no? Perché sennò fai il grafico, faresti poco e quindi un'altra serie di informazioni viene classificate per tipologie, ecco, le famose classi BIM, cioè ogni oggetto viene classificato come IFC qualcosa e hanno fatto una classificazione, uso un paragone, no? Dico, quando dice la Bibbia, no? Quando Dio diede nome alle cose, ecco, grosso modo è stata fatta la stessa operazione con I-BIM e quindi è stato definito l'oggetto IFC Wall, IFC Door, IFC Window, sono partiti da lì, no? Sembra il corso d'inglese, no? Il corso base, le book is on the table, ma sono partiti ovviamente dalle cose che conoscevano, le cose più naturali per loro e poi pian pianino hanno esteso la classificazione anche agli altri oggetti. Quindi diciamo che gli oggetti edilizi sono stati codificati molto bene e praticamente subito, gli altri sono in via di codifica. Su alcune categorie, sull'impiantistica, diciamo che si potrebbe fare meglio, si è visto forse il forte imprinting edile di chi ha fatto queste classificazioni qua. Però ci sono le classi BIM anche per gli oggetti nostri, sono gli FC Flow qualcosa, lo vedremo. Ecco, grande equivoco, che mi capita spessissimo di sentire, ah ma allora gli FC vuol dire che io lavoro col software A, ti do il file gli FC, tu lo apri col software B, lo modifichi, mi ridai gli FC, lo rimodifico avanti così. Ahimè no, ahimè no, perché non sostituisce il formato nativo dei vari CAD, cioè una volta che io ho fatto un muro con Revit e lo salvo come gli FC e divento gli FC Wall, quando Revit se lo rilegge non è più un muro di Revit, è un oggetto importato di classe BIM e gli FC Wall. con le sue proprietà visibili ma non editabili, quindi devo avere comunque il file nativo, il dvg di EsaPro, il revt di Revit, il dgn, cioè quello è il file master. E poi esporto, quindi è semplicemente un modo per consentire di vedere un modello 3D mantenendo delle informazioni di base relativa ai vari oggetti, quindi non ha la pretesa di sostituire il formato nativo e non potrebbe neanche, anche perché a livello grafico è tutta roba scolpita un po' con l'accetta nel senso che gli FC siccome deve rappresentare graficamente qualsiasi geometria discretizza in poligoni, quindi voi prendete un tubo che sarebbe un cilindro e lo fa diventare una superficie rigata, quindi anche graficamente è un po' basic, ma lo scopo non è quello di passare la geometria corretta, è quello di dare un modello semplice da leggere, quindi l'IFC non è la panacea, non è la soluzione a tutti i mali, non è un modo per dire inizio un lavoro con il software A e lo continuo con il software B, posso importare l'IFC nei vari software, ma li vedo come dei reference, voglio dire, poco modificabili. La classificazione IFC, quindi quando hanno dato un nome alle cose, prevede che ogni oggetto wall, per esempio, abbia il suo set di campi normalizzati, quindi lo spessore del muro, la composizione, il costo magari a metro cubo per la porta, più semplice ancora, dimensioni della porta, eccetera, il tipo di apertura, quindi ok, costruttore, modello, quindi campi standard, ma, e qui apro una porticina che però ha fatto entrare veramente parecchia entropia in questo mondo, si sono sempre tenuti una, diciamo, una via di fuga, diceva bene, noi cerchiamo di fare il lavoro meglio possibile, però non possiamo prevedere tutti i campi possibili per tutte le discipline, allora, diciamo che ogni software in coda ha la possibilità di aggiungere i propri campi personalizzati per memorizzare altre informazioni che reputa utili. questa cosa certamente aiuta a organizzare i dati come uno preferisce, però, però, ha dato molta discrezionalità, per cui, diciamo che i BIM, i file IFC fatti dal software A, sono un po' differenti dal software B, non dal punto di vista grafico, e neanche dal punto di vista dei campi standard, ma quello che c'è in coda può essere molto diverso tra un software e l'altro, e questo sarà anche un po' la difficoltà che poi vedremo, perché poi ognuno lecitamente può chiedere ai propri fornitori dati che magari non sono nel formato IFC standard, nei classi BIM standard, ma dei dati suoi, nel capitolato BIM, i famosi campi custom, e lo vedremo, vedremo soprattutto nel discorso REN, quindi, abbiamo visto cosa sono i livelli di maturità del BIM, quanto sei BIM, da due in su, buono, sotto, no, questo è un altro concetto molto bimesco, se mi premerate il termine, è l'LOD, Level of Development, livello di maturità del progetto, ne sentirete parlare, ne avrete sentito parlare, questo è proprio un concetto fondante, e in questa illustrazione si capisce, no, anche che cosa, dove si va a parare, no, allora, l'LOD, codificato, è un indice, un rating, un punteggio, con il quale, viene convenzionalmente valutato, il livello di completezza, accuratezza, delle informazioni disponibili, in una determinata fase del progetto BIM, cioè a che punto siamo, LOD, 1, 2, 3, 4, 5, cioè è chiaro che più alto il numero, più sei vicino alla fine, quindi hanno dato proprio degli step, quello che gli dice che è stato l'avanzamento lavori, è quello che è stato l'avanzamento di progettazione, LOD, Level of Development, ma LOD, in realtà, è un rating che è composto da una formulina magica, quindi, è il risultato di una formula che comprende quattro fattori, quindi, Level of Development è il punteggio generale, ma il punteggio generale lo fanno i parziali, e ci sono quattro fattori, un altro che tra l'altro si chiama LOD come quell'altro, e quindi questo ha generato non poca confusione, LOD, LOI, LAI, e vediamo cosa sono. Allora, l'LOD, diciamo, parziale, è il Level of Detail, siccome Detail e Development hanno la stessa lettera, spesso si confondono, ma in realtà il Level of Detail è un fattore che concorre alla formazione del Level of Development, ed è, che cos'è? È livello di dettaglio grafico riconoscibilità degli oggetti 3D, cioè, vuol dire, quanto un oggetto 3D è simile a quello reale, concetto un po' strano per noi, no? Cioè, noi in impiantistica le valvole siamo abituati nella vita a farle con i due coni e ci va bene, voglio dire, due con i volantini, ci va bene, ecco, qua c'è più un discorso, diciamo, anche estetico, no? Cioè, guardandolo, quanto è simile, e questo fa punteggio, no? Perché, diciamo, nella filosofia del BIM ci sarebbe l'idea, secondo me, non so fino a che punto poi fruibile, utilizzabile, che il modello sia veramente la coppia a carbone del mondo reale. è un modo di vedere la cosa. Comunque, il level of detail, quanto questa cosa è simile poi a quella reale a livello grafico. Level of information, questa è la parte, diciamo, importante, la quantità di dati testuali, proprietà BIM, associate ai dati BIM. Cioè, quanti dati ci sono associati a questo? Quante informazioni mi dai? tante, poche, ok, anche questo fa punteggio. Questa è un indice che anche questo per noi è un po' strano, quantomeno. Livello di accuratezza, cioè, quante informazioni sugli oggetti sono in realtà già definitive, confermate? Cioè, diciamo, sono un architetto, faccio il BIM, devo mettere delle porte, allora cosa faccio? Prendo delle porte generiche, le metto lì, ok, e non ti do nessuna informazione, oppure, prendo già delle porte da un archivio di componenti BIM di un fornitore e le butto là. È chiaro che queste porte hanno un livello di dettaglio altissimo, ma un livello di accuratezza basso, perché non sono in realtà le porte che metterò, sono delle porte molto simili a quelle che metterò, ma se tu prendi per buono quello che c'è scritto dentro, cioè, che il fornitore è X e il modello è quello, con la finitura laccata bianca, per dire, stai prendendo una cantonata, quindi, alto LOD, alto LOI, basso LOA, cioè, guarda che, ti ho messo delle cose così, è caruccio sto modello, ma non prenderlo per oro colato, perché ancora questa non è finalizzata, non è confermata. noi quando mettiamo una valvola, normalmente viene da specifica, quindi, sì, si possono cambiare le cose, però, andiamo abbastanza col piede di piombo su queste cose. Qui è un po' un concetto molto, molto architettonico, parto, plasmo, una cosa, la fino, no? Noi, quando partiamo a modellare, partiamo già con l'idea abbastanza chiara, qui, è proprio un concetto più basato su questa, si va per successive approssimazioni, no? E se non ho qualcosa, ci metto qualcosa come segna a posto. E poi, c'è l'LOC, il livello di coordinazione, cioè, quanto sono state verificate le interazioni con le altre discipline BIM, tradotto per noi Clash, cioè, ok, ho il modello A, il modello B, il modello C, che hanno un LOD piuttosto alto, ma, finché non ho un LOD, e quindi ho verificato il Clash tra le varie discipline, l'LOC, non è, non passa, eh? Ok? Quindi, il livello di coordinazione, ovviamente, capite che il BIM è un problema, tra virgolette, soprattutto per chi lo deve coordinare, cioè, è per il committente che è un grosso lavoro, per le singole discipline, lo vedremo, che non è neanche poi così pesante, lo vedremo, non dobbiamo fare molto, noi, devono fare molto loro, se non fanno molto loro, e allora è un problema, perché dobbiamo lavorare in modo coordinato, ma non c'è nessuno che si coordina, siamo un'orchestra, dove ognuno ha il suo spartito, ma non c'è nessuno che la dirige, eh? I significati delle categorie, cioè, questo LOD, rating, ha diversi punteggi, che va da 100 a 500, anche qua, a volte vedrete scritte LOD, ABCD, LOD 1, 2, 3, 4, 5, perché poi, noi siamo maestri, soprattutto europei, a prendere le cose americane, magari, e dire, ok, ma non le chiamiamo come loro, perché noi siamo europei, siamo più complessi, quindi, alla fine, è sempre la stessa storia, però a volte le chiamano LOD con delle lettere, in Italia, ho visto usare anche le lettere, sono dei numeri, io uso la classificazione americana, che è quella un pochettino più, più nota, e poi, va bene, noi piantisti siamo un po' filamericani, no? Le asme, Ok, comunque, il concetto LOD 100, si parte da un progetto concettuale, di tipo volumetrico, vagamente rappresentativo, cioè, velocemente, come lavora un architetto in BIM? La prima cosa, si fa uno studio volumetrico, e lo fa, spesso addirittura con SketchUp, con sistemi puramente grafici, butto lì un'idea, invece che usare la classica matita, foglio di carta, butto lì un'idea, LOD 100, che cos'è? È un file grafico, dove ho delle scatole, poco più che delle scatole, le misure non sono neanche poi quelle definitive, più così, un'idea, si plasma, la filosofia del BIM è plasmo questa cosa, poi si va più nel dettaglio, l'LD 200, e si passa a un progetto geometrico, misurabile, parzialmente quantificabile, ma ancora approssimativo, cioè, le scatole, se non altro, iniziano ad avere delle misure, che sono vicine al reale, e, diciamo che, inizio magari, se non altro, a suddividere gli ambienti, no? A prevedere, se non altro, quanti piani faccio, ecco, prima era una cosa fatta con il pongo, e poi inizia ad avere l'aspetto di un plastico, potrebbe essere una specie di plastico, siamo ancora indietro, LOD 200, poi c'è la fase, diciamo, di dettaglio, 300, 350 e 400, si prosegue con un progetto esecutivo, geometricamente sempre più accurato, con informazioni crescenti, no? E' quello che si fa poi in tutti i campi, Si parte da un'idea, e poi lo vedremo, l'LOD loro, a cosa corrisponde per il nostro mondo, così capite subito, no? Questo discorso qua. Comunque, LOD 300, 350, si fa su serio, no? E quindi, si inizia a disegnare le cose in modo dettagliato, allora si inizia a lavorare con, con i software BIM, e si aggiungono informazioni, 300, 350, 400, finché non si arriva alla fine, ed è l'LOD 500, è il modello finale, finito, S-Built, a questo livello, tutte le informazioni geometriche e testuali, sono accurate, non più modificabili, cioè, è stato deciso, addirittura è costruito, S-Built. Poi in realtà c'è anche un LOD 600, e anche il 700, come dicevo, che è quello per il dismantling, che però non vedo fare, probabilmente porta sfortuna a pensare, allo smantellamento, perché si ferma nel 600, viene prevalentemente utilizzato per i facility management, cioè, non aggiungo niente a livello grafico, ma aggiungo informazioni sul ciclo di vita degli item, e requisiti di manutenzione, quello che noi mettiamo nei datasheet, poi alla fine, fondamentalmente, quindi informazioni in più, che servono al funzionamento, poi, dell'impianto. Eccolo qui, l'avevo messo, mi ho dimenticato, scusate, quindi l'LOD 700, per la dimissione, sbaltimento, eventualmente il ciclo, non ho ancora visto niente, che sia arrivato lì, diciamo, ma il BIM è ancora nuovo, quindi, prima che vada a smantellare la roba fatta in BIM, ci vorrà qualche anno, ok, questo è uno schemino, proprio facile facile, che fa capire, proprio questo concetto qua, no? Cioè, si passa da un'idea di massima, una specie umana di genere maschile, a un'idea LOD 200, quindi più o meno, so quanto, quanto è alto, e più o meno quanto pesa, poi vado a caratterizzarlo sempre di più, no? Cappelli castani, anni 34, specie umana, papapapapà, fino a che, alla fine, questa persona esiste, la conosco, so che ha due figli, ha un carattere amichevole, estroverso, e sono arrivato all'LOD 500, questo è proprio il, la filosofia che sta dietro all'LOD, eh? Normalmente, questi LOD, sono degli step, che vengono proprio, eh, contratualizzati, mh, quindi c'è un, eh, progetto concettuale, al 10%, non so, è un'ipotesi, ma, ho visto che più o meno, i tempi sono questi, al 10% c'è un LOD 100, più o meno, poi, eh, al 20-25% del tempo, eh, ti chiedono un LOD 200, mh, poi c'è tutta la parte, diciamo, di progettazione esecutiva, e con quello arriviamo al 90% del, del tempo, 90-95, e poi c'è l'AisBuild, che si prende la 95-100, no? Quindi, nel ciclo, diciamo, di una commessa, quando lavori, diciamo, con, con un cliente che lavora, con un comitente che lavora in BIM, ci saranno degli step, dei checkpoint, che il BIM manager, eh, normalmente mette, e, contettualizzati, vedrai proprio LOD 100-200, è questa roba qua, eh, sì, ma noi cosa dobbiamo fare, eh? Eh, e allora, ho cercato di mettere in corrispondenza le due cose, no? Dicevo, ok, ma cos'è 100 per noi, 200 per noi, e qui, capite, secondo me, che cosa, che cosa intendiamo, soprattutto cosa intendono loro, eh? Allora, c'è un LOD 100, che è la loro progettazione concettuale, che anche noi facciamo, se proprio dobbiamo dare un nome a questa cosa, è l'equivalente del PFD, Process Flow Diagram. Noi, la differenza grossa tra noi, diciamo, e l'approccio BIM, è che noi facciamo tanto in 2D, prima di iniziare a modellare, no? Cioè, noi, quando iniziamo a tirare la prima riga in 3D, siamo in LOD 300-350, voglio dire, quindi molto avanti, noi non plasmiamo, cioè, se uno fa una raffineria, non è che dice, vabbè, metto un po' di apparecchiature, butto lì un po' di tubi, e vedi un po' l'effetto che fa, eh? Ok? È diversa la cosa. Quindi, noi lavoriamo molto prima, facciamo i compiti a casa, con i 2D, e poi, e poi iniziamo a modellare, quindi, ci stiamo dentro, ma ci stiamo dentro, a partire dal 300-350, quindi, PFD, quindi, bilanciamento masse, non so neanche che numero, nelle nostre linee, neanche meno i diametri, poi, meccanizziamo il PFD, e diventa un PIPing Instrumentation Diagram, quindi il P&I, andiamo a fare, magari, anche il dimensionamento dell'apparecchiature, e siamo ancora in LOD, secondo me siamo in LOD 300, e non abbiamo fatto ancora un tubo in 3D, un tubo, tra virgolette, e poi, e poi iniziamo a ingegnerizzare il modello, quindi, il modello 3D, per noi, parte da 350, quindi, se ci chiedono un LOD 300, in 3D, magari dobbiamo anticipare un po' qualcosina, perché, effettivamente, noi iniziamo a fare, direttamente il modello, da, il primo IFC, lo diamo a 300, 350, poi c'è il 400, Piping e Sketch, no? Sketch 2D, e poi c'è il 500, l'aggiornamento dei modelli, S-Built, e quindi c'è sia la parte, diciamo, di Piping, che la parte di P&I, che è fondamentale, voglio dire, e poi c'è l'LOD 600, che se proprio vogliamo immaginarcelo, sarà dare tutto il book di documentazione, che include, le schede tecniche, quindi, quindi datasheet. Quindi, questi sono praticamente, le nostre fasi di lavorazione, comparate all'LOD, per come le vedono loro. Quindi, se arriva un progetto da fare in BIM, e ti chiedono gli LD, più o meno, andiamo a parare qua. Qui, si vede chiaramente, che per noi, facciamo tutto, in 2D, fino a più o meno 300, poi 3D, e poi c'è un ibrido. Quindi questo, secondo me, è utile, chiaramente, ho cercato anche di semplificare le cose, no? Perché, se si scende troppo nel dettaglio, si perde anche un po' di vista, al discorso generale, però, può essere una buona, mappa di orientamento, per voi, ma, ma anche per spiegarlo, poi, al vostro cliente, che, non sa niente di voi, come voi, probabilmente, non sapevate niente di lui, no? Quindi, questo di, guarda che, quando mi stai chiedendo, un'area di 300, guarda che io sto facendo, che ho il P&I. Oh, e qui, è la domanda delle domande, che è la domanda, che poi, tutti i nostri clienti, anche voi, magari, mi siete anche fatti, dice, sì, ma chiede il BIM, cosa cambia per me? Cosa devo fare? No? Cosa cambia? Per una società impiantistica, quando viene chiesto di lavorare il BIM? Cioè, ma quando viene chiesto di lavorare il BIM, allora, una buona notizia, è niente. Cioè, dal punto di vista metodologico, cioè, l'approccio BIM, è un approccio metodologico? Sì. Ci stiamo dentro? Ma assolutamente sì. Cioè, facendo così una battuta, potete dire, guarda che noi eravamo BIM prima di te, voglio dire, noi siamo sempre stati BIM, benvenuto nel nostro mondo, noi le abbiamo sempre fatte queste cose qua, non le chiamavamo BIM, però le abbiamo sempre fatte, quindi, si è sempre lavorato, seguendo un flusso di lavoro, che è conforme l'approccio BIM. Quindi, non mi stai chiedendo, grazie a Dio, niente che io già non faccia. Mi stai chiedendo di darti un file, che normalmente non sarei tenuto a darti, che è il famoso IFC, perché se io ti do il DVD di Esa Pro, tu te ne fai poco. Quindi, ti devo fornire un file IFC, dove tutti gli oggetti impiantistici sono classificati secondo le classi BIM, quelle a cui ce l'avevo prima. ci sono delle classi BIM, che sono state create 4, 5, non si sono sforzati più di tanto a livello di fantasia, forse adesso andando avanti col formato, qualcosina altro raggiungo, come sono poche, c'è l'oggetto IFC Flow Segment, che è il tubo, poi c'è l'IFC Flow Controller, che sono valvole, tutti quelli che controllano flusso, valvole, strumenti, tipo Flow Controller, e poi ci sono i Flow Fitting, curve, flange, riduzioni, ok, e poi ci sono, ci sono moving device, che sono le pompe, sono 4 o 5, però quello, cioè tutti gli oggetti impiantistici stanno in queste 4 o 5 massimo categorie e dobbiamo categorizzarli così, perché così loro capiscono che questa è la nostra disciplina, Flow, Flow. Il file IFC deve essere però, se fanno il BIM sul serio, non puoi farlo con quello che vuoi tu, ma deve essere fatto con un software certificato BIM di Smart, l'appalto di REN è stato possibile farlo, proprio perché Briscad era certificato, e solitamente nel capitolato BIM ti viene chiesta la versione di questo file, giusto per informazione, l'IFC è un formato che ha costanti revisioni, no? La più diffusa, diciamo, quella che si è consolidata di più negli anni, è la versione 2, revisione 3, l'IFC 2x3, 2, revisione 3, e quella è un formato minimo che tutti quanti leggono, scrivono, poi c'è il 4, il 5, il 6, eccetera, però ovviamente appena annunciano un formato poi devono certificarsi i vari software, quindi quando fanno un capitolato BIM cercano di mantenersi su un formato su cui si trovano parecchi software certificati, perché se vanno a fare un capitolato BIM e dico il mio formato è IFC 6, vuol dire che puoi usare un software 2 al massimo al mondo, perché ancora gli altri sono da venire, quindi cosa cambia tra un formato e l'altro? A livello grafico niente, cambiano le classi BIM, nel senso che più tipologie di oggetti, cioè ci sono anche delle tipologie d'AMMI, delle tipologie di oggetti IFC, che vabbè, se non sai dove metterlo, metterlo lì, ecco, adesso diciamo, nei vecchi formati si ricorreva più spesso a questo scamotage, nei nuovi formati sempre meno, perché come dicevano, come nella Bibbia, man mano che stanno dando i nomi agli oggetti del creato, abbiamo un oggetto BIM per ogni cosa. Qui sta il discorso, nel capitolato BIM, che il committente vi dà, dovrebbe darvi, il committente può elencare quanti e quali dati, proprietà BIM, devono essere assegnati agli oggetti provenienti da diverse discipline, perché vi ho detto, ok, IFC ci ha già dei dati standard, poi ognuno può aggiungere i suoi. Ha maggior ragione, se il committente poi vuol gestire queste cose con i suoi software, le sue procedure interne, avrà magari bisogno di altri dati. E quindi, nel capitolato BIM, qualcuno ha chiesto se forniamo le slide, se volete sì, in realtà registriamo questo webinar, nei prossimi giorni sarà su YouTube, per cui li potete anche riguardare, però sì, poi daremo anche la possibilità di scaricare le slide per chi le vuole. Ok, dicevo, e qui il BIM non è gratis, tra virgolette, perché spesso si pensa, soprattutto a parte di chi è il committente, mi compro un software BIM, Revit, c'è la più famosa Revit, compro Revit, ok, faccio il BIM, e no, è come dire, mi compro Word, e faccio lo scrittore, beh sì, insomma, c'è chi ci ha portato, chi no, ma comunque non è lo strumento che fa le capacità, quindi chi vuole il BIM, deve fare parecchio lavoro a casa, i compiti a casa, cioè per coordinare tutti questi indotti, e chiedergli degli EFC, devi prima sapere tu, quali sono i dati che ti interessano, perché tu mi dici che dati vuoi, e io te li metto dentro, non può essere l'indotto a sapere quali dati possono servire a te, noi impiantisti possiamo sapere quali sono i dati che servono sui impianti, no? Lo vediamo sempre, il numero di linea, la classe, il DN, rating, materia, cose qua, ma soprattutto a chi ragione in ambito civile, magari servono dei dati che noi non ci immaginiamo neanche, il cespito, il numero di cespito, piuttosto che la classe energetica di un'apparecchiatura, cioè, ne inventano tanti, su REN si sono inventati 80 campi, il capitolato BIM prevedeva 80 campi oltre a quelli standard, tantissimi, io dovessi mettermi chiuso in una stanza e inventarmi 80 dati per un piping, non mi verrebbero mai in mente, ma io sono un impiantista, quindi il capitolato BIM può essere parecchio engaging, parecchio esigente, quindi, e qui dipende un po' con chi ha a che fare, perché, ahimè, gli enti pubblici non sempre sono così, organizzati, per usare un infinito, quindi ti chiedono il BIM, ma poi non saranno neanche loro che dati vogliono, invece il BIM è pianificazione, soprattutto, va approcciato con metalità scacchistica, cioè le prime mosse sono finalizzate poi a vincere la partita, quindi, capitolato BIM, mi chiedi BIM? Allora, dammi un capitolato BIM, dimmi che cosa vuoi, e io te lo faccio, esempi di software certificati da businessmart.org, e dici, ma ok, ma cosa posso usare? Uno va in businessmart, pensa di trovare montagne di software, in realtà non ce ne sono tantissimi, e vi posso dire che il 90% sono tutti software, ovviamente, per fare progettazione architettonica, qualcuno per fare un po' di MAP, quando vedete le sigle MAP, sta per mechanical, electrical e plumbing, alcuni dicono piping, no? Tutti i moduli che si chiamano MAP, non sono fatti per fare piping industriale, sono fatti per fare plumbing, quindi impianti civili, impianto riscaldamento, impianto idraulico, fognario, eccetera, e ce ne sono diversi, tra l'altro, cosa abbastanza curiosa, uno si aspetterebbe che software, in realtà uno ce n'è, che è Revit, nelle sue varie definizioni, architecture, MAP, solo quello, e poi c'è anche l'AutoCAD Architecture, che è, diciamo, il nonno di Revit, è, diciamo, la versione di Revit su AutoCAD, se vogliamo dire così, basta. Beh, quindi, di fatto, gli unici software certificati, veramente, BIM, del mondo Autodesk, faccio esempio Autodesk, perché è il nostro mondo, diciamo, poi c'è Tecla, famosissimo, e poi c'è H-Software, non sono tutti qua, ma esempi, di software impiantistici, c'è poco o niente, industriali, poco o niente, Briscat BIM, c'è lui, e adesso parleremo di lui, quindi, questo chiude, diciamo, la prima, la prima parte, no? Cioè, abbiamo visto, da dove nasce, abbiamo visto, un pochettino, di, terminologie, no? Di concetti, soprattutto, che stanno dietro al BIM, adesso andiamo sul concreto, io sono, chi mi conosce, sa che sono, piuttosto pratico, nelle cose, e adesso andiamo a vedere, Briscat BIM è, la chiave che ci apre, il mondo BIM, come? Quindi, lui è certificato, è in grado di leggere, scrivere, il formato IFC, attualmente, credo che abbia ancora, la certificazione 2x3, si sta certificando, per il 4, quindi, non è ancora, credo, certificato 4, ma 2x3, è ancora molto diffuso, ok, le funzionalità di Briscat BIM, allora, intanto, cos'è Briscat? Non è detto che tutti lo conoscano, vedete che c'è un logo, Briscat, Brissis, Esapro gira anche su Briscat, e Briscat di per sé è un, è un po' riduttivo il termine, però va bene, per dare un'idea, è un clone di AutoCAD, clone vuol dire che è proprio uguale, cioè stessa interfaccia utente, stesso formato file, è prodotto da una società belga, che si chiama Bricsis, questa qua, e vabbè, nasce, diciamo, all'inizio parte, come tanti altri prodotti, quindi, un emulatore di AutoCAD, e siccome ci fa, è in grado anche di far girare, applicazioni di terze parti, noi abbiamo fatto il porting, e quindi Briscat per noi, è un'alternativa ad AutoCAD, chi vuole usa Esapro su AutoCAD, altri usano Esapro su Briscat, Esapro sempre quello è, ma, viene distribuito, anche lui, in versioni differenti, un po' come AutoCAD, c'è l'LT e il Full, e lui c'ha Light e Pro, ok, è quello, se uno si prende Briscat Pro, è come avere un AutoCAD Full, e ci fa girare su Briscat, ma ha anche una versione, diciamo, deluxe, più di una, c'è anche la Briscat Mechanical, ma qui parliamo di Beam, quindi, si ha Briscat Beam, è una versione speciale di Briscat, che ha tutti i comandi dell'AutoCAD base, più, una serie di comandi per la progettazione architettonica, è un po' qualcosa che si avvicina al vecchio AutoCAD architecture, quello che è, quindi, ha una serie di comandi per fare muri, porte, finestre, scale, ma a noi interessa poco, potrebbe essere interessante per qualche architetto, dice, vabbè, potrebbe essere un'alternativa a Revit, non lo so, è da valutare, ma non è questo che interessa a noi, ma soprattutto ha la capacità di classificare come oggetto Beam, qualsiasi oggetto 3D modellato con AutoCAD Full o Briscat Pro, ha un comando che si chiama proprio Beam Classify, cioè, se con questa logica qua, non mi importa come l'hai disegnato, anche con AutoCAD base, ma anche con SketchUp, è un file grafico, non c'ha nessuna informazione, io ti do però un comandino, che dice, toccami questo oggetto, e dimmi che cos'è, e tu dici, questo è una door, questo è una window, questo è un flow terminal, questo è un flow segment, quindi, ti permette di BIMizzare, perdonatemi il termine, ma c'è proprio un comando che si chiama Beamify, di BIMizzare un file che è puramente grafica, è un concetto un po' diverso dai software BIM classici, se voi usate un software BIM classico tipo Revit, non esiste che lui BIMizza dopo, lui appena ha fatto una cosa, vi dice, organizzami la gerarchia di questo oggetto, dimmi che cos'è, e lui crea già un oggetto BIM, e se non lo puoi fare, devi prima definirlo, quindi ha una certa inerzia, questo è il motivo per cui spesso la progettazione concettuale si fa in SketchUp, proprio per non portarsi dietro queste procedure che sono piuttosto nerose e complesse per l'utente medio, invece Briscad dice, sai che c'è? se ti serve BIM lo fai dopo, quindi disegna un po' come ti pare, anche con AutoCAD e basta, o con Briscad Pro, e poi ti do un comando io che si chiama Classify, ti toccherà gli oggetti, non a tanto, metterli o classificati, è comoda questa cosa, ma noi risolve il problema, capite già dove vado a parare, con questo comando qui siamo in grado di trasformare, di classificare gli oggetti blumi in ossi tubi, che sono cilindri, quindi sono solidi, oltre a classificarli, ovviamente è certificato, per cui dà la possibilità di definire un set di proprietà personalizzabili, c'è proprio un comando che si chiama BIM Properties, e per ognuna assegnare un valore, quindi nel momento in cui io ti classifico come oggetto BIM, tu ti prendi già il set di proprietà standard, oltre a questo è possibile aggiungere tutti i campi che ti vengono in mente, quindi definisci la tua struttura dati, e poi lo vai ad alimentarlo, quindi un po' come fai già in software tipo Revit, ma lo fai ex post, quindi puoi lavorare con ESA Pro come sono le esistesse il BIM, e poi se ti chiedono il BIM lo fai, ma alla fine però. Il comando BIM Properties funziona così, ho fatto un po' di screenshot, per così chi dovesse avere il brisket BIM, oppure se lo scarica, e questo con questa interfaccia qui, vedete che qui ci sono una serie di campi che mi sono creato io, numero c'è, spito, classe energetica, grado di protezione, in infuga, sono delle proprietà, ok, che tu puoi andare ad aggiungere, ne fai quante ne vuoi, le chiami come ti pare, puoi decidere se sono proprietà testo che scrivi, proprietà delle liste a discesa che vai a selezionare, logici, eccetera, e queste sono proprietà personalizzate, e poi, una volta che hai definito questo set di proprietà personalizzate, decidi a quali oggetti devi appiccicarlo, a tutti gli oggetti BIM, per esempio il numero di cespito potrebbe essere una proprietà che tutti gli oggetti BIM hanno, alcuni magari hanno questa proprietà valorizzata, altri no, oppure oggetti specifici, tu puoi decidere dentro a BIM properties che queste sono proprietà visibili solamente per gli oggetti flow, io mi sono preso gli oggetti nostri, non gli oggetti nostri, le classi EFC che contengono gli oggetti nostri, e ho detto guarda che queste sono proprietà che non hanno tutti gli oggetti BIM, ma solamente gli oggetti di piping, gli oggetti piattistici. Poi cosa succede? Niente di strano, succede che poi quando andate a toccare un solido di ESA Pro, e aprite la finestra proprietà di Briscat, che è uguale a quella di AutoCAD, infatti vedete che è identica, vi trovate delle proprietà in più, un po' come se avesse un blocco con degli attributi, e lì potete andarci a scrivere i valori, uno a uno, potete selezionare dieci oggetti e segnare la stessa valore a dieci, c'è un browser che vi dà la possibilità di selezionare gli oggetti in modo gerarchico, è fondamentalmente un data entry manuale, avete una serie di ausili, è un po' tedioso, diciamo, però si fa. E quindi niente, vi trovate delle proprietà BIM personalizzate, quindi vi trovate delle proprietà aggiuntive, oltre al layer, colore, tipo di linea, e sono quelle che vi siete dati voi, a seconda della, semplice, semplice. E poi c'è il comando Classify, no? Dici ok, qui ho definito gli oggetti, le classi, e poi tocco gli oggetti, no? Quindi col comando Classify posso cliccare su un solido, qui ho fatto proprio solidi che non c'entra niente, Pic, una scatola, per esempio, e dire tu sei una window, per esempio, no? Puoi decidere tu, eh? Poi c'è anche un comando che si chiama BIMify, che è un comando di intelligenza artificiale, per cui guardando, come se avessi gli occhi, guardando gli oggetti, capisce lui che cosa potrebbe essere muro, porta, finestra, quindi chiaramente ha degli occhi molto orientati all'edilizia, quindi sono gli oggetti impiantistici, non aspettatevi che faccia chissà cosa, però diciamo che le porte e le finestre riconosce, se voi fate un solido 3D che lo aspetta in una finestra, lui lo riconosce, ah ma questo è la window, è carina come cosa, Classify invece chiede a voi, come tutte le cose, se vuoi avere controllo è meglio sceglierlo tu, e quindi si può classificare come oggetto BIM, e ripeto, questi sono gli oggetti BIM che gestiamo noi, Flow Fitting, Flow Controller, queste sono le funzioni di base di Briscad, cioè Briscad di suo, ti permette di fare questo, poi vedremo che Esapro ha un comandino che automatizza ulteriormente il processo, e poi c'è l'export, il comando esporta, tra i vari formati di esportazione c'è anche il formato IFC, e quindi puoi esportarlo sia come 2x3 che per 4, IFC 4 non è ancora certificato ma lo scrive, e poi puoi aprirti con un visualizzatore, un visualizzatore gratuito, oppure importartelo anche in Revit, cosa vedrò in Revit? Oggetti nativi Revit? No, l'abbiamo capito che non è così, non è così per Esapro, non è così per nessun software BIM, non è proprio il concetto del BIM questo, se vuoi avere oggetti nativi Revit, devi fare oggetti nativi Revit, però se Revit esporta un IFC, loro importano, non sono neanche più oggetti nativi Revit, quelli che ha scritto lui, però le informazioni le vedi, e queste sono le proprietà BIM, così come si leggono in un software che legge i file FAC, io ho fatto uno screenshot di un software gratuito che si chiama BIM Vision, è un visualizzatore di file BIM, ma ce ne sono a tonnellate, cioè la categoria dei visualizzatori di file BIM è una categoria piuttosto nutrita, io uso questo, ma ok, e lì potete fare il famoso modello federato, e prendo la parte impiantistica, e prendo la parte civile, e prendo la parte meccanica, metto insieme, tocco un oggetto, e posso andarlo a esplorare all'interno della struttura, poi posso andare a organizzare i miei dati per piani, posso avere building 1, floor 1, e quindi lì ci metto solamente alcuni oggetti, quindi le informazioni all'interno dell'IFC sono anche gerarchizzate con le locazioni spaziali degli oggetti, e qui, altro livello, abbiamo capito cosa è il BIM, le proprietà BIM, l'IFC, abbiamo visto come si fanno in Briscad, benissimo, e saprò cosa ha di suo, cioè mi lascia mani nude con Briscad? No, però mi ha fatto un comandino, due cose, niente di, però tanta roba, perché vi tolgono un sacco di lavoro, le funzionalità BIM di ESA Pro. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto, è fornire, nelle installazioni di ESA Pro, un comando, scusate, un file, che si chiama ESA Pro Format BIM XML, che cosa serve questo file? Serve a Briscad, perché attraverso il bottone import, è possibile cliccare su import, e andarsi ad aprire uno di questi file. Che cos'è questo file? È un file che contiene, un set di proprietà BIM già pronte, cioè, allora, due possibili scenari, o vi arriva un capitolato BIM, dove vi dicono, sì, il DN me lo devi mettere in questa proprietà BIM, il materiale in quest'altra proprietà BIM, e allora dovete proprio creare i campi, con i nomi che vi dicono, diciamo, i vostri clienti, oppure, e succede spesso, credetemi, dice, guarda, a me, a livello di manutenzione, servono questi dieci campi qua, questi campi qua, gli altri, fai tu, e dici, cosa ti do? Vabbè, allora, in quel caso, ESA Pro Format BIM, vi crea praticamente, tutta quella struttura, tutta la struttura che voi vedete qua, sono già campi che abbiamo preparato noi, e sono praticamente in proprietà BIM, i campi del nostro database, quindi gli passiamo praticamente tutto, quindi con questo importate un file XML, che definisce al volo una struttura di campi BIM, quindi utile questa cosa, perché se non vi chiedono cose particolari, andate col pilota automatico, ESA Pro Format BIM, XML, importa, e mi trovo già tutte le proprietà, ed è tanta roba, perché ce n'è di lavoro, dietro qua, e poi abbiamo, nelle opzioni di progetto, di ESA Pro, andate a vedere proprio, il piping e il cable 3 ce l'hanno, in fondo, in basso, c'è proprio una piccola categoria che è BIM, per lo più ignorata, dove c'è un puntamento a un file, questa opzione qua, che cos'è? È il file di mappatura delle proprietà BIM, è un file XLS, fatto così, è proprio molto molto semplice, dovete fare una serie di linguette, una linguette per le apparecchiature, uno per i componenti, uno per gli oggetti piping, sono due colonne, nella colonna a sinistra, che non dovete toccare, ci sono tutte le proprietà ESA Pro, i nomi interni dei campi ESA Pro, e nella colonna a destra, potete personalizzarvela come volete, vi fate anche una vostra versione, potete mettere il nome della proprietà BIM, che volete valorizzare, noi quello che diamo, è chiaramente tarato sul XML, che vediamo, cioè, se uno dice, vabbè, piloto automatico, importo l'XML, mi crea i campi, poi uso questo file di mappatura, e lui ci fa scrivere dentro, direttamente, quindi, non devo fare niente, se invece avete il cliente, che vi chiede dei campi BIM specifici, allora dovete andare, BIM properties, creare i campi che vi chiede lui, e poi andare qui dentro, e per ogni campo ESA Pro, material, andare a scrivere il campo materiale, che vi chiede il vostro cliente, perché magari il nome del campo è diverso, perché ovviamente, ognuno ha i suoi requirement, l'inceneratore di red, è stato fatto così, quindi 80 campi sono stati creati a mano, e 80 righe sono state messe qua dentro, una tantum, non tutti in realtà, perché molti campi che sono stati creati, in realtà non erano neanche dati, che erano presenti in ESA Pro, alcuni, alcuni, questi sono, praticamente funziona così, tutti i campi ESA Pro, che hanno una corrispondente proprietà BIM, vengono praticamente travasati, nella corrispondente proprietà BIM, schiacciando il bottone, ok, e c'è il nostro comando, che si chiama, ESA, BIM Classify, quindi, molto, molto fantasioso, è la nostra versione, e cosa fa? Praticamente fa una classificazione automatica, c'è questo bottone qui, se avete Briscad, su, Briscad BIM, ESA Pro su Briscad, vi trovate questo comandino qua, che c'è una casetta, schiacciando il bottone, e lui classifica automaticamente tutti i nostri oggetti, quindi se li va a cercare all'interno del disegno, li riconosce, e ognuno lo va a mettere nella categoria giusta, e contestualmente va a compilare tutti i campi BIM che sono stati mappati, quindi nella finestra proprietà vi ritrovate che quando andate a toccare questa valvola, vi trovate il tag della valvola, la descrizione, il materiale, come proprietà BIM che saranno visibili nel file dfc, se non vi chiedono, non hanno esigenze sul nome di questo campo qui, e gli va bene nominal diameter, standard, rating, eccetera, non dovete fare praticamente niente, su sta parte qua, a limite saranno le proprietà specifiche del vostro cliente che andrete a fare, e poi sotto ci mettiamo anche line data, quindi ci sono anche il numero di linea, la classe, l'area, tutto quello che normalmente vediamo in Navisworks, ok, lo mettiamo lì, quindi alla fine vedete che non è che vi chiedono la luna, ok, io lavoro con Isapro, magari anche su AutoCAD, mi piace lavorare su AutoCAD, ho una versione di Beriskat BIM, lo prendo, schiascio classifica come BIM, e basta, e l'ho bimmizzato, e poi glielo mando, ok. Ultimo capitolo, esempio pratico, ecco, questa è la parte dove veramente entriamo molto nello specifico, questo è proprio un BIM, vero, su cui stanno lavorando due nostri clienti, sono Ruzze e Fisia, che credo siano collegate, in particolare ingegnere Mariani e ingegnere Pifanio, di Fisia, e loro sono le due persone che, diciamo, seguono questa attività, e mi hanno dato queste informazioni, io sono un indegno sostituto, e presento il loro lavoro, ma noi siamo, diciamo, quelli che hanno dato lo strumento, quelli che lo usano, e fanno questa cosa, sono loro. Allora, un BIM realizzato con Isapro, e che BIM? Allora, il progetto è il rifacimento quasi totale, dell'impianto di incenerimento di Rennes, per Rennes Metropol, quindi stiamo parlando di un impianto, che viene fatto in Francia, per Rennes Metropol, che è l'ex, diciamo, municipalizzata, insomma, quella che gestisce poi gli impianti di incenerimento. Allora, è un progetto piuttosto corposo, prevede dai 6-7 anni, da quando è stata fatta l'offerta, alla messa in servizio, quindi 2025, coinvolge quattro aziende principali, che si sono messe insieme come associazione temporanea di impresa, due di queste sono italiane, Lutz, che fa forni industriali, e Fise di Rimpianti, vabbè, conoscete, più Le Gendre, che è la parte, diciamo, di progettazione civile, e sono quelli che, poi hanno tirato un po', le fila, diciamo, della parte BIM, quindi delle strutture BIM, eccetera, e un po' ma architetti associati, non so bene cosa facciano, ma comunque, anche loro sono architetti, e molti altri fornitori, quale ATS, Interpec, Naldeo, cioè, allora, è un progetto multidisciplinare BIM, che prevede diverse aziende, ognuna, anche con strumenti differenti, Rutz e Fise a usare S-Pro, c'è chi ha usato Revit, c'è chi ha usato Tecla, e altri prodotti ancora. Il progetto è, un progetto piuttosto importante, è poco sotto i 100 milioni di euro, quindi, prevede due, due step, la, la tranche ferme, e la tranche opzionale, eh, l'impiego delle risorse, è più o meno questo, nei lati sono coinvolte, 15 persone full time, e più delle risorse in condivisione. Quando è arrivato, diciamo, l'ordine di questo, eh, si affisca che Rutz, diciamo, dovevano farsi un po' di esperienza sul BIM, quindi, eh, alcune delle cose che avete visto nelle slide, sono cose che anche loro hanno imparato in, eh, in corso d'opera, e molto hanno insegnato anche a me, eh, diciamo che la prima parte della, della presentazione, beneficia anche di, di quello che poi a, a sua volta, eh, io ho imparato da loro, eh, c'è una prima fase in cui magari, ci siamo un po' aiutati a vicenda, e poi loro adesso sono molto, molto ferrati su questa cosa, eh, e hanno una grandissima esperienza. Quando hanno iniziato a fare questo progetto, in Italia non, non avevi nessun riferimento, eh, di aziende che avevano approcciato un, eh, un progetto di impiantistica industriale in BIM, così, eh, abbiamo fatto un po' di, di telefonate in giro, e siamo stati, probabilmente i primi in Italia, e questo è uno dei più grossi progetti BIM, eh, fatti a questo livello in Europa, eh, quindi non stiamo parlando di un caso qualsiasi, stiamo parlando veramente di un'eccellenza, eh, in questo caso italiana, insieme ai francesi. Il capitolato era particolarmente esigente, esigente, innovativo, buttato lì, tra le altre cose, 80 campi in più, eh, quindi, sì, sì, dammi tutta la tua impiantistica, e lì, eh, probabilmente è valso il discorso dello standard, mi va bene, cioè, i dati impiantistici, diciamo, molto impiantistici, magari sono di poco rilievo per il committente, quindi lì siamo andati con la struttura standard, esapro, per lo più, però, 80 campi in più, eh, e vedremo che abbiamo dovuto anche sviluppare una cosa per aiutare un po' il lavoro. ehm, l'integrazione, eh, un livello 2, integrato e normalizzato, in realtà lo vedremo, siamo un 2 plus, siamo un 2,5 secondo me, siamo quasi a 3, eh, perché lavorano col cloud, eh, e se ci mettiamo anche che, eh, si arriva all'LOD 500, quello per forza, ma è già prevista la possibilità di fare un upgrade a 600, vuol dire che stiamo già andando a livello 3, eh, fate conto che quando uno dice, guarda che, stiamo facendo un BIM a livello 3, vuol dire, chi si occupa di BIM, eh, tanto di cappello, eh, perché veramente siamo, a dei livelli altissimi, ne ho sentito parlare tanto, ma, vederlo è un'altra cosa, eh, cioè, applicate queste cose è un'altra cosa, e qui stiamo parlando proprio di una cosa che stiamo facendo oggi, e che sta facendo in questo momento, eh, per il modello confederato, eh, è previsto l'utilizzo di un software di gestione e manutenzione, cioè molti software di gestione e manutenzione, ormai leggono il formato IFC come fonte di dati, quindi, invece che dargli dei database, dei fogli Excel, con l'elenco degli asset, eccetera, si tirano dentro i dati direttamente dal formato IFC, ovviamente, partita di scacchi, per leggere i dati da IFC bisogna che i vari fornitori strutturino i dati in modo coerente, e questi i compiti che sono stati fatti a caso, cioè il capitolato è esigente, innovativo, e siamo d'accordo, ma c'è stato un lavoro, eh, a monte, molto, molto grosso da parte dei committenti, che giustamente sono esigenti, ma, eh, loro per primi dicono, ok, ma per funzionare questa cosa bisogna di ABCD, lì è forse dove noi italiani caschiamo un pochettino, noi siamo bravi, molto bravi a risolvere i problemi in temporanea, lavorare con questo ordine, diciamo, mentale, richiede un pochettino di pratica, quindi, ok, quindi, il BIM, se viene fatto seriamente, è molto impegnativo per chi, per chi lo dà da far fuori, voglio dire, per il committente, quindi, ok, competenze delle parti, chi fa cosa? Allora, sono le competenze di RUTS, competenze di FISA, RUTS, è, eh, ha la fornitura dell'intero sistema forno caldaia, due linee di incenerimento da 9 tonnellate ora, e, tra caro ponti, così, eh, così, per raggiungere, eh, ricopre il ruolo di mandatario del progetto, quindi è il capo, diciamo, capo progetto, referente principale con il cliente REN Metropole, quindi, diciamo, eh, coordina la propria attività, e anche quella di, eh, di FISIA, e, si occupa anche da coordinazione del progetto, coordinazione degli studi, quindi, tutta la parte di, eh, LOC, quindi, clash, eccetera, viene in parte gestita anche da loro, almeno, sicuramente tra la parte di RUTS e la parte di FISIA, immagino, ma, anche forse qualcosina di più, FISIA è insieme a RUTS e fa la progettazione e realizzazione di tutta la parte di processo dell'impianto, quindi la parte proprio impiantistica avvalendosi di tecnici e risorse esterne, le competenze di FISIA sono i locali turbina, prechiature, aree tecniche, la fornitura elettrostrumentare, le aree di ricezione ingombranti e bla, e bla, e bla, quindi, progetto abbastanza impegnativo, perché poi tra l'altro, cioè, coordinate anche da due aziende, voglio dire, quindi è un po' il gioco delle matriosche, no? Bisogna suonare tutti la stessa musica qua. Il livello di integrazione è alto con rapporti quotidiani con tutte le aziende, player nel progetto, ma poi, nella pratica, che software sono stati adoperati? Per fare la progettazione, ce lo siamo già detti, ma poi per fare tutto il coordinamento? Allora, moltissimo è stato fatto in Teams, moltissimo in Teams creando praticamente dei gruppi, gruppi Teams per le varie discipline, e quindi lì si lasciano documenti, ci si coordina, certamente tra l'UTS e FISIA, ma anche tra l'UTS e FISIA e, quindi Teams, utilissimo da questo punto di vista, con un repository che sta su cloud, per cui, come dicevo, siamo già molto vicino al 3, secondo me quasi potrebbe essere considerato 3, ma diciamo, beh, facciamo i modesti. Poi, per la gestione documentale, ovviamente non si parla solamente di modelli 3D, ma c'è tutta una parte di documentale, è stato usato la piattaforma WebSys, questo è il committente che usa la piattaforma WebSys, gestore documentale, anche questo, credo, è un sistema basato su cloud, quindi, qui, c'è poco di server fisico, anche perché i fornitori sono dislocati in giro per, se non per il mondo, almeno per l'Europa. E poi, la Beam Collaboration Platform, cioè, il sistema che permette di fare il modello federato, quindi quello che mette insieme i file IFC, è stato usato BeamSync, è la specie di alternativa ad Autodesk 360, cioè, un sistema, volendolo sminuire un po', ma diciamo, per semplificare, è un visualizzatore Beam, tipo il Beam Vision che abbiamo visto prima, questo lavora su cloud, quindi, come dicevo, più 3 che 2, no? Il flusso di lavoro con ESA Pro, cosa hanno fatto poi, Fisia e Ruz con ESA Pro, hanno lavorato con ESA Pro su Briscad, piping e cable trace sono i nostri due prodotti che hanno questa funzionalità qua, modellato, alla solita maniera, e poi, e poi hanno impacchettato tutto per fare i file IFC, quindi, sono andati a compilare le loro proprietà Beam, molte proprietà Beam sono state compilate automaticamente da ESA Pro, perché abbiamo visto che ESA Pro lo sa fare, le proprietà extra andavano compilate a mano, questo lavoro qua, siccome le proprietà extra non erano poche, diventava un pochettino pesante da gestire, e allora cosa ci siamo inventati? Abbiamo sviluppato un piccolo plugin, che aiutasse a fare questa attività, e che abbiamo chiamato ESA Pro Beam Interface for Excel, ma in realtà che cos'è? È la possibilità di fare un export, diciamo, di tutte le proprietà Beam da DWG, su un foglio Excel, nel foglio Excel andare a compilare i dati, tipo il nostro prodotto instrumentation, per intenderci, no? Qual è il vantaggio? Eh, beh, tanto, perché se tu hai dei dati comuni a 200 oggetti, tu con Excel fai copy and call, estendi la serie, te la sei portata a casa, all'interno dell'ambiente grafico, non hai certamente tutte queste comodità. In genere, i data entry delle proprietà Beam, anche negli ambienti strutturati, tipo Revit, è una cosa piuttosto onerosa, quindi noi, soluzione molto semplice, esportiamo un file Excel, ti compili i dati, chiaramente nel file Excel finiscono i dati attuali, tu li modifichi, giungi quello che vuoi, e li importi, e ti trovi completate le proprietà Beam. Quindi, una compilazione dei dati Beam può essere fatta anche da un altro ufficio, che non ha neanche accesso alla grafica, magari ha solamente il file Excel, con il nome dell'item, magari, perché c'è tanto lavoro, i campi erano tanti, e abbiamo visto che effettivamente così si riducevano a parecchi tempi. Una volta che le proprietà Beam sono valorizzate, si pacchettizzano dentro al file FC, il file FC si posta su Beam Sync, in questo caso, però, come vedete, non è che sia per forza, potrebbe essere Autodesk 360, Solibri, o qualsiasi altro sistema, e noi abbiamo postato i nostri file, che chiamiamo PIP IFC Piping, e elettrico IFC, e qui ci sono altre discipline, che ovviamente, compongono un modello federato, che si vede in Beam Sync, e possono servire a me come fonte dati, perché magari, a parte Civ IFC, me lo posso anche tirare giù, da Beam Sync, e lo importo in Briscad, no? Perché? Perché a parte Civile, magari mi serve per farci già dentro i tubi, l'HVAC, ok? Quindi, DFC servono, sia come Out, che come In, no? Adesso, in questo caso, buttiamo lì, possiamo anche tirare giù. Quindi, quando viene fatta una revisione, della parte strutturale, della parte Civile, DFC viene tirato giù, magari portato in Briscad, per vedere effettivamente, se dobbiamo adeguare qualcosa. Oppure, semplicemente, andiamo a verificare un clash, dentro a Beam Sync, e di conseguenza, andiamo ad aggiornare il nostro modello. Quindi, Beam Sync potrebbe essere anche, in qualche modo, paragonato a Nevisworks. Anche Nevisworks ha la possibilità di gestire gli IFC. Anche se, devo dire, le prestazioni di Nevis su GFC, non sono purtroppo quelle sugli altri formati file. Devo dire che lì, GFC non è proprio il pane di Nevisworks. Molto meglio BIM 360. Ok, quindi, alla fine, vedete che non è niente di trascendentale. Fare BIM vuol dire, fare questa cosa qua. Ok. Qualche screenshot, che vi fa vedere, delle immagini dell'impianto, quindi sono delle aree, valorizzazione energetica, applicature elettriche, e preparazione desce, non ho idea di cosa voglia dire. E questo invece è un video, che vi mostra praticamente il BIM Sync, ecco qua, con i vari modelli federati, cioè il modello federato, con i vari IFC. Vedete che ogni file ha una sua nomenclatura, Legendre, Lege, Root e Roots, e ci sarà anche FIS, da qualche parte FISIA, e ognuno ha il suo. E questo è un video che fa vedere, come vedere il modello federato. Quindi questo è il BIM. Quindi si accendono i vari modelli, quindi questo è un sistema che gira dentro il browser. Molto performante, perché ovviamente non viene elaborato nulla in locale. Ok. Viene fatta la navigazione, possibile verificare i clash, e questo è la navigazione all'interno. Quindi è una specie di Nevis, effettivamente. Però tenete presente che le diverse discipline sono state fatte da società differenti, con software differenti. Ma una volta che è tutto in EFC, è tutto BIM, e tutto viene gestito allo stesso modo. Perché? Perché c'è anche, è stato un lavoro di pianificazione delle proprietà BIM, che ha uniformato i dati. Quindi questo è quello che stanno vedendo, diciamo, i committenti quando entrano nel progetto. È una bella cosa. Chiaramente per arrivarci bisogna essere organizzati, avere anche una certa forma mentis, però è qui e ora. Ci tenevamo anche a farvi vedere questo esempio per farvi capire che è una cosa assolutamente applicabile. Insomma, ci sono già persone che stanno già facendo questa esperienza con soddisfazione. Ok. Terminato questo, diciamo che la parte espositiva è terminata e rimaniamo a disposizione per le domande. Adesso spengo anche la registrazione e accendiamo i microfoni. Poi chi vuole può rimanere e fare domande. Buongiorno a quelli che si sconnetteranno. saluto e ok e alla prossima. Ok. Interrompendo.